Massimiliano Bellarte sarà l'allenatore dell'Acqua e Sapone anche per la prossima stagione. Fumata bianca sull'accordo fra società e tecnico dopo l'incontro avvenuto nelle ultime ore. Rinnovati anche gli accordi con il preparatore atletico Paolo Aiello e con il vice allenatore Daniele Galici. Prima conferma ufficiale anche nel roster nerazzurro. Anche nel prossimo campionato vestirà la maglia dell'Acqua e Sapone M-Gross l'ala pivot Cristian Borruto. 27 anni alle prese da due mesi con la riabilitazione dopo l'infortunio ai legamenti del ginocchio. L'argentino sarà disponibile fin dall'inizio della preparazione precampionato. Toccherà così a Bellarte per la quarta stagione consecutiva sulla panchina nerazzurra dare nuovamente l'assalto allo scudetto. Non avevamo bisogno di incontrarci, c'era unità di intenti da tempo. Lui voleva noi e noi volevamo lui, ha detto il presidente Nando Barbarossa dopo aver ratificato nei suoi uffici di città Sant'Angelo. L'accordo per il prossimo anno con il tecnico di Ruvo di Puglia. La società nerazzurra ha lanciato intanto da oggi il progetto di uno stage gratuito per i nati tra il 1998 e il 2001 e che si svolgerà presso il centro sportivo Kick-Off di Silvi Marina. Un modo per far scoprire il futsal ai giovani dell'Interland di Montesilvano e della Riviera Pescarese e Teramana e per avvicinarli al club nerazzurro che ha saputo portare i suoi baby locali al titolo di Campioni d'Italia Juniors nel 2013 e tra le prime otto realtà italiane della categoria Under 21. e tra le prime otto realtà italiane della categoria